Che cosa abbiamo qua? L'aria buona, la terra e i prodotti di grande qualità che questa terra ci dà. Sul grano che esce fuori da qua ci metto non una mano sul fuoco ma tutte e due perché noi dalla semina al raccolto seguiamo i nostri associati nella produzione di questo grano. Finera come Armando incide perché garantisce all'agricoltore un prezzo minimo. Noi viviamo in una piccola comunità di 3.500 abitanti quindi molti dei nostri agricoltori fanno parte della comunità. Tu muovi a Milano con 5 ore e 90 ti prendiamo questa roba? No, sono in 5 ore e di 9. Eh, vedi, vieni a te qua. Bovino risale all'epoca dei Volci quindi parliamo di molto prima dell'era dei Romani quindi 400-500 a.C. E' uno dei paesi tipici dell'Italia di una volta. Tutti i negozi di Bovino vendono pasta a grano Armando. Io quello che mangio di più è questo qua, pacchero e poi spaghetto alla chitarra. In casa mia ormai da due anni, tre, si mangia soltanto pasta a grano Armando e quando si mangia qualche altro tipo di pasta i miei figli se ne accorgono. E' un passaparola, cioè il prodotto buono si vende da solo e Armando è uno di questi prodotti che si può vendere da solo. E' un passaparola, cioè il prodotto che si può vendere da solo.